Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questa recensione di due videogiochi in contemporanea. Si tratta di una recensione sempre nell'ambito del Ludo Narra con 2020, la terza che vi porto, e oggi andiamo a parlare di The Haunted Island, The Frog Detective Game e Frog Detective 2, The Case of the Invisible Wizard. Questi due giochi sono stati entrambi sviluppati da Grace Bruxner e Thomas Boker, e devo ringraziare Grace Bruxner che mi ha inviato le chiavi per entrambi. Thank you. Allora, questi titoli mi è capitato più volte di trovarli su Steam, ho suggeriti, ho in sconto, cioè c'ero capitato più volte, ma non mi ero mai soffermato troppo, perché non mi sembravano il titolo adatto a me, ma ho dovuto cambiare idea, giocandoli me li sono divorati ma durano molto poco e sono costruiti su una base di non-sense che suscita ilarità, che è così generico, simpatico, ben fatto, frizzante, che questo è adatto un po' per tutti i tipi di giocatori e un po' per tutte le età. È qualcosa di molto leggero, ovviamente, per cui va bene, di sicuro, per dei bambini, per un pubblico molto giovane, però non soltanto, non è solo da limitarsi a quel determinato pubblico, perché può risultare interessante, può risultare simpatico, un po' per tutti i giocatori. Si tratta di due casi, appunto, molto semplici, due indagini di questo Detective Rana. La prima avventura è durata 45 minuti, la seconda è durata un'ora. Sono delle avventure in 3D, in cui, in pratica, la meccanica principale è di dialogare con i vari NPC e capire quali sono le loro necessità e scambiare degli oggetti in modo da fornire loro quello di cui hanno bisogno e ottenere, in cambio, quello che serve poi a noi, o per altri NPC o per la risoluzione completa dell'enigma. Le aree in cui si gioca sono molto, molto ristrette, quindi non c'è un discorso di esplorazione o che semplicemente vedi tanti personaggi e vai pian piano a parlarci e cerchi di capire dove puoi ottenere l'oggetto che sta cercando e che cosa potresti ottenere da lui. Tutti gli NPC, devo dire, sono davvero simpatici perché sono ognuno pazzo in un modo suo, per cui ognuno ha qualche strana fisima mentale e qualche scompenso che lo porta ad essere assurdo e a rivolgersi alla rana in modo assurdo ma appunto proprio perché ha questa situazione di non senso e di larità. Molto spesso, tra l'altro, il detective rana reagisce prendendo in giro velatamente l'interlocutore con cui sta parlando in modo proprio da rendere ancora più palese con appunto del sarcasmo in quanto questa situazione sia carica di non senso. Lo stile artistico che caratterizza entrambi i giochi è molto buffo e devo dire che inizialmente con questo suo essere un po' infantile mi aveva un po' scoraggiato perché pensavo che fosse appunto un titolo solo destinato a un pubblico di bambini o un titolo comunque raffazzonato, non fatto con grande grazia. Ma anche qui mi ha completamente smontato il gioco perché è una decisione presa molto consapevolmente che ci butta in un mondo appunto in un certo senso infantile però in cui appunto vivono e vivono delle regole completamente diverse da quelle che sono nella vita reale e in più in alcune situazioni come in particolare per le animazioni dei personaggi in alcune situazioni molto particolari si può proprio vedere che non è una cattiva abilità o una mancanza di abilità dal lato artistico ma è proprio una scelta portata a termine molto brillantemente. Ultimo motivo per cui devo consigliarvelo se non bastassero anche le recensioni su Steam che sono estremamente positive mi pare al di sopra del 96% di utenti hanno apprezzato questi giochi e dubito che in tutti quelli fossero semplicemente dei bambini costano assolutamente pochissimo a prezzo pieno costano poco più di 3 euro l'uno e c'è anche un bundle già su Steam in cui si può comprare il primo e il secondo episodio di questi giochi che poi non è che è episodica perché si concludono l'altro episodio cioè il gioco costano insieme poco più di 7 euro quindi davvero un prezzo molto molto interessante a me sono piaciuti sono leggeri e frizzanti non sono una cosa impegnativa non hanno rigiocabilità però sono molto carini darei un 78 la recensione è stata abbastanza breve ma io davvero ve li consiglio i giochi sono brevi ma sono davvero di qualità io vi invito a lasciare un mi piace un commento qua sotto se per caso non lo aveste già fatto e iscrivervi per restare aggiornati su eventuali altri video del genere ciao a tutti e una buona giornata